LULU ASMR RELAX Ciao, benvenuta. Come stai? Mi fa piacere. Cosa facciamo oggi? Ok, sì. Quindi l'hai già lavati a casa i capelli? Va bene. Infatti ho visto che sono belli puliti, profumati. Hai messo anche il balsamo? Ok, dai. Allora facciamo un bel massaggio. Mi è arrivata una nuova spazzola che è questa. Molto bella. Questa serve a massaggiare proprio il cuoio capelluto. Ha questi dentini gommati. molto morbidi. Che quindi quando vado a spazzolarti non ti fanno male. Non ti graffiano la testa. E se vuoi te la faccio provare subito. Benissimo. Hai visto che bella anche il colore? Perfetto. Tu rilassati. Chiudi gli occhi. E non pensare a niente. E non pensare a niente. sai già cosa fare a Natale? Beh sì dai. Un po' tutti. A Natale si sta in famiglia. Sì anche io sì. Capodanno invece. Ah, quindi si festeggia alla grande. E fai bene. Hai già scelto anche l'abito da indossare a Capodanno? Ah, quindi sei alla ricerca. Aspetta, io un po' di tempo c'è ancora. Aspetta, io un po' di tempo c'è ancora. Aspetta, io un po' di tempo c'è ancora. Sì, oltre a massaggiare il cuoio capelluto, questa spazzola ha anche la funzione di togliere tutti i nodi dai capelli. Eh, ho visto sì, qualche nodo ce l'hai perché comunque essendo così lunghi i capelli è normale. Magari quando li spazzoli hai paura di strapparli. Eh, e quindi qualche nodo lo lasci, certo. Anche io ho il tuo stesso problema, sai. Però vedi, dopo averla passata poche volte i capelli sono molto più frequenti, guarda. Ok, continuo un po' così. No, guarda. Io non faccio nulla di particolare anche perché devo sistemare un po' il negozio. Ho in mente qualche nuova idea per rinnovarlo. Sì, voglio un po' cambiare colore alle pareti. Prendere magari qualche arredo nuovo, più moderno. e quindi devo affrontare anche un po' di spese, capisci? Eh, cerco di risparmiare un po'. Ok. 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 Senti dopo, puoi fare anche il trucco oppure? Ah ok. Se vuole possiamo fare tranquillamente. Ah ho capito. Guarda io ho mezz'ora libera, ce l'ho perché mi si è liberato un posto, una signora ha disdetto quindi ho mezz'ora libera. Ok, va bene, allora poi tu vai a fare quello che devi fare. Non c'è molto tempo però quindi in un quarto d'ora dovresti riuscire a fare tutto. Benissimo. Certo. Sì, dimmi. Vuoi che ti faccio un paio di trecine? Va bene. Da che parte? Di qua o di qua? Di qua. Va bene. Come mai questa idea bizzarra? Ho capito. Hai perso una scommessa? Va bene. Con chi è che l'hai persa? Con tua figlia. E quindi ti devi fare un paio di trecine? Una? Tre? Tre addirittura? Ripete. Ho capito. Così quando oggi andrai a prendere la scuola sarà felice. Va bene. Guarda che però ti vengono sottili, eh? Va bene lo stesso? Sì, giusto per farla un po' contenta. Ok, va bene. Allora, partiamo subito. Guarda, io ti faccio delle trecine semplicissime, anche perché il tempo... ecco. Ricordati stasera di scioglierle poi quando vai a dormire, sennò domani ti trovi con una parte di testa frisè e l'altra liscia. Ma li hai tirati tu con la piastra oppure solo con le spazzole phone? È perché vedo che sono molto molto lisci. Ok. Ma guarda, io la piastra non la consiglio molto alle clienti perché comunque tende a bruciare il capello. Eh sì. Poi se uno ha i capelli un attimino rovinati, capisci che è un attimo. E poi bisogna fare maschere ristrutturanti e spendere anche un sacco di soldi. Quindi la piastra va usata proprio poco poco, giusto, nei casi, non so, tipo un'occasione particolare. Eh. Certo. Guarda che carina. Hai visto? Ok, dai. Una è fatta. Vi facciamo un'altra. Ti stanchi molto bene. Ok. Sì. Ah, ok, va bene. Sì, ti faccio solo questa e basta. Allora, anche i due bastano, dai. L'importante è che fai vedere a tua figlia che hai mantenuto la parola. Ok. Ok, anche questa è fatta. Le due triccine sono qui. Ok, allora ti aspetto tra un venti minuti. Perfetto. Ok, allora dopo. Ciao cara. Ok, allora. 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 Grazie a tutti.